Una vita violenta Il protagonista è uno solo, Tommaso, quindi queste sono le due grandi differenze rispetto a Ragazzi di Vita. Nel senso che a Ragazzi di Vita c'erano alcuni capitoli, come proprio il primo sul Ferro Bedò, che addirittura risalevano al periodo dell'occupazione nazista dei tedeschi di Roma, e quindi con un arco di tempo molto più ampio. Qui invece l'arco di tempo è ristretto. In Ragazzi di Vita i protagonisti erano molti, Riccetto e il suo gruppo di ragazzi di Borgata. Qui il protagonista è uno solo. E' molto significativo il fatto che Tommaso non sia né bello, né forte, né sano. Caratterizzato da fame, alla ricerca di qualcosa da mangiare, insomma, da delinquenza, furti, furtarelli e altri modi per sbarcare il lunario, vizi, arresto, tubercolosi, eccetera. Ma nobilita poi tutta quanta la sua esistenza con la morte eroica. Intervalliamo le nostre slide con alcune fotografie d'archivio, tratte dall'archivio fotografico, diciamo così, di Pierpaolo Pasolini, da cui emerge il rapporto stretto che legava Pierpaolo Pasolini con questi ragazzi di vita, ragazzi di Borgata, con i quali giocava pallone, ad esempio. Una vita violenta è un romanzo che è stato scritto a partire dal 1956, ma poi mi sembra pubblicato qualche anno dopo. Comunque è stato di fatto che questo romanzo ha ispirato il primo film di Pierpaolo Pasolini, che è stato a Cattone, del 1961. Ecco, infatti, dicevo, inizia a lavorare al romanzo subito dopo la fine della pubblicazione di Ragazzi di Vita, ma poi lo pubblica solo nel 1959. L'intento è quello di continuare il progetto, iniziato con Ragazzi di Vita, di narrare come vivevano i ragazzi delle borgate romane, attraverso questi romanzi particolarissimi, che sono appunto Ragazzi di Vita e Una vita violenta. Tra l'altro successi editoriali, importanti, che hanno permesso a Pasolini di essere conosciuto, affermato. Su consiglio dell'editore, però, Pasolini doveva cambiare alcuni punti scabrosi e politicamente pericolosi. Dovete sapere, infatti, che già una volta pubblicato il primo romanzo, cioè Ragazzi di Vita, c'era stata una levata di scudi, c'erano state delle reazioni piuttosto forti, anche e soprattutto per le scene più scabrose, ad esempio esplicite, parliamo della prostituzione in queste zone di periferia a Roma, termini anche volgari presenti nei due testi di Pierpaolo Pasolini. E quindi Pasolini doveva cambiare questi punti scabrosi e politicamente pericolosi. Lo fa, anche se poi alla fine comunque c'è un processo in cui lui viene scagionato, viene assolto dall'accusa di aver offeso la morale pubblica. Il romanzo Una vita violenta è finalista del premio Strega, anno 1959, che però viene assegnato al Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampiedusa. Un altro capolavoro, comunque. Il romanzo Una vita violenta narra la storia di un giovane, Tommaso Puzzilli, anche questo Puzzilli potrebbe essere un omen-omen, c'è un nome che è già un presagio di quello che è la vita un po' sordida, sporca che trascorre questo ragazzo, che vive nella borgata romana di Pietralata. Anche qua c'è una differenza perché i ragazzi di vita ci si spostava da una borgata all'altra. Egli insieme ai suoi compagni conosce la fame e la delinquenza, organizza furti e arriva perfino a prostituirsi. Adesso leggiamo un brano tratto appunto da Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini. Un brano molto significativo perché ci fa capire anche un po' implicitamente il messaggio che vuole trasmettere Pasolini con questo testo. Ecco, come ben sapete il Tevere è un fiume soggetto a piene, alluvioni e cose del genere. Una di queste avvenne e viene raccontata appunto in una parte, una delle ultime parti, diciamo così, del romanzo. Anche Tommaso assiste alle scene della povera gente disperata perché le baracche di alcune di queste borgate romane erano state addirittura allagate dall'acqua del fiume mescolata alla terra diventata quindi una sorta di fiume di fango che aveva inondato queste baraccopoli, possiamo dire. Queste borgate erano davvero delle baraccopoli perché, come vi ho visto anche nei ragazzi di vita, queste famiglie vivevano un po' alla giornata e non avevano neanche una casa con dei muri, insomma, ma vivevano in queste baracche. Tommaso accodato ai pompieri si arrampicò affondandone la fanga, arrafandosi ai resti delle fratte, a qualche ramata, a qualche alberello frollo, quindi, come dire, aggrappandosi in qualche modo per non rischiare anche lui di cadere in mezzo al fango. E raggiunsero quasi la parte più alta, a mezza costa, dove c'era una specie di spiazzo. Lo spiazzale al centro, dove giocava Tommasino da piccolo, era un laghetto e in mezzo, appuzzati nell'acqua, c'erano i resti delle capanne. Ecco la scena desolata che si mostra ai pompieri che sono venuti a soccorrere, le persone appunto alluvionate, e a Tommasino stesso, che ricorda invece il tempo in cui in quei luoghi si metteva a giocare. Tra le baracche che non erano state sfasciate, c'era una un po' più all'asciutto. Era quella che tutti guardavano. Eh, tutti guardavano perché c'era dentro una persona. Una donna che ci abitava ci si era inchiodata. Era rimasta lì. Invece di scappare, magari, vedendo la piena del fiume, il fango, eccetera, questa donna era rimasta lì, forse con la speranza di salvare un po' di roba. Si era messa a raccapezzare tutto quello che era per terra e che dalla fanga si portava via entrando dalle finestre. Quindi era rimasta lì anche magari per cercare di, come dire, di rimediare ai danni dell'alluvione. Qui vedete un'altra foto con Pierpaolo Pasolini che dialoga con i suoi ragazzi. Significativo è il fatto che ci sia una guardia comunque che osserva la scena. Infatti, come abbiamo detto, in questi anni, come dire, ci furono dei rapporti, non solo in questi anni, ci furono dei rapporti con la legge in quanto in diverse fasi della sua vita Pierpaolo Pasolini fu soggetto a delle denunce. Poi però, un po' alla volta, la fanga era sempre più cresciuta e lei era rimasta bloccata là. Avrebbe potuto andarsene via all'inizio, ma poi aveva deciso di rimanere lì per custodire le sue cose, le sue povere cose, ed era rimasta lì bloccata, sola, nella sua capanna, e chiamava aiuto. La sua voce non si sentiva quasi per niente, con rumore della pioggia, del vento, della corrente, del fiume. I pompieri avevano delle corde, si davano da fare per andarla a prendere. Tommaso, accanito, ci si mise in mezzo, facendo tutta una manfrina, svociandosi per farsi dar retta. «Voi non siete pratichi!» gridava. «Non conoscete il fondo! È tutto pieno di buche! C'è sta il reticolato!» Si rivolge Tommaso ai pompieri, che non sanno com'è il fondo ricoperto di fango, mentre Tommaso lo sa bene, conosce benissimo la zona, e sa dove ci sono le buche, o dove c'è il reticolato. «Fatemici andare a me, che io la so la strada!» Ecco, il romanesco è ovviamente la lingua prevalentemente usata nei dialoghi in questi due romanzi di Pierpaolo Pasolini. «Ma i pompieri non lo vedevano per niente, tutti presi a preparare la corda sotto le sventagliate della pioggia». Continuava a piovere. «Uno se la legò ai fianchi e s'addentrò». Uno dei pompieri si lega ai fianchi la corda, si addentra, quindi cerca di avvicinarsi a questa baracca dentro la quale si trova questa povera donna. Ma non fece neanche due passi che scivolò, perché lì c'era l'ascesa e si melmò fino agli occhi. In un certo senso, questo dimostra che Tommaso aveva ragione. Lui sapeva bene che lì c'era una scesa, una discesa, mentre il pompiere non lo sapeva. E quindi, per questo motivo, cade. Si melmò fino agli occhi. Vuol dire che questo povero pompiere addirittura affonda fino agli occhi nel fango. Fece per tirarsi su, ma non ce la sbroccolava, altro termine, diciamo, gergale. Non riusciva, insomma, a liberarsi. E allora gli altri lo riportarono indietro. L'unica soluzione a questo punto, per salvare la vita, almeno questo pompiere, era quella di riportarlo indietro. Ecco, vedete come Pierpaolo Pasolini amava questa gente, questi ragazzi, questi bambini, questi giovani di Borgata. E passava con loro gran parte del suo tempo libero una volta terminate le lezioni che teneva al mattino in una scuola. V'ho detto, strillava Tommaso, v'ho detto che non c'è magnate niente. Cioè, vi ho detto che non riuscite a combinarci niente. Non si passa di lì, bisogna fare il giro. Non si passa di lì perché ci sono le buche, la discesa, l'abbiamo visto, eccetera. bisogna fare il giro. Mannatece sto giovanotto, che sa in dove si mette i piedi, intervenne e allora passa l'acqua. Che era un tizio che era presente, insomma, alla scena. Allora, che devo fa? Continuava a gridare Tommaso, in campana, scanmanato. Cedevo a nà io, sì o no? Abbiamo visto che Tommaso, sin da l'inizio, ha preso a cuore la situazione e chiede ai pompieri se gli danno il permesso di andare lui a cercare di salvare questa povera donna. Da qua, perci il capoccia. Prese e legò alla cintola Tommaso. A questo punto, invece di legare il pompiere, che come abbiamo visto è inesperto del territorio, decidono di legare con la corda Tommaso. Senza nemmeno voltarsi indietro per mostrare lui come si faceva, Tommaso si buttò dal ciglio della strada e cominciò a fare il giro a largo anziché andare dritto alla capanna. Pure lì la melma era alta, sopra gli stinchi, ma costeggiando le baracche che più o meno si erano salvate, intorno allo spiazzaletto, un po' alla volta, come Dio volle, ci si accostò. La donna gridava aiuto, stirando il collo da una finestrella della baracca. Adesso la donna si è resa conto di essersi messa nei guai perché non è scappata subito. Grida aiuto. Intanto lui, Tommaso, è riuscito a raggiungere praticamente la sua baracca facendo il giro, come aveva detto questo appunto il manifesto del film che è stato ispirato dal libro. Del resto ha fatto lui stesso, insomma, questo film, lo stesso Pasolini. Mo' arrivo, signor! Adesso sto arrivando, signora. State ve buona, state tranquilla, gridò Tommaso dal pantano, dal fango. La donna, scarmigliata, fracica, con le mani giunte, strette sulla pancia, l'aspettava. Ecco, quindi la donna, un po' tutta sconvolta dalla situazione, aspetta, speranzosa, l'arrivo di Tommaso. Come fu lì, le venne un attacco di petto tutta una volta e prese un colpo al cuore, insomma. Cominciò a smaniare, a rigirarsi. Fammi piare qualcosa, gridava. Almeno un materasso, un vestito. Il motivo per cui era rimasta lì, infatti, era quello di cercare di salvare la sua roba. E quindi gridava, fammi prendere qualcosa, non rendendosi conto che non era possibile salvarsi portandosi via con sé un materasso, ad esempio. Asigno, ma mica sono facchino io! A questo punto Tommaso dice, non è che posso, già vengo qui a salvarti, non è che posso portare anche tastaroba. Le gridò Tommaso di brutto. Mentre lei diceva così e non si muoveva, namo, namo, signo, che qui la faccenda si aggrava, continuando a piovere, ovviamente aumenta il rischio, il pericolo. Ma io c'ho paura, come famo? Diceva quella ripiegata in avanti verso tutta quell'acqua, tremando bianca, ingelita, coi capelli attaccati alle guance come bisce. Abbiamo già detto che scarmigliata, quindi tutta sfatta. Venite qua, appoggiatevi vicino a me, acchiappatevi al collo, le faceva Tommaso tirandola. È l'unico modo per potersi salvare, quindi aggrapparsi a lui. Qui vedete Pasolini che amava tantissimo giocare a pallone con questi ragazzi. Ma non ce la puoi fa? gridava la donna con una voce da ragazzina facendo la pignarella. Ma non vedi che c'è, l'imortacci sua? Ce proviamo? Ah, cosa? Ecco qui, non tutto il brano è stato riportato, ma è come volevo farvi capire che la situazione era difficile, stava piovendo e Tommaso fa grande fatica a portare via anche questa donna. Tutto sudato che per rifiatare quasi si crepava arrivò all'asciutto. Dopo quindi tutta questa questa impresa, questa impresa di portare via la donna con sé e riuscire a salvarla che è durata parecchio e nel frattempo Tommaso è rimasto sotto la pioggia incalzante tutto sudato che per rifiatare quasi si crepava riuscì finalmente ad arrivare all'asciutto. La comare cominciò a farla matta questa donna salvata. Cominciò a farla matta a lasciarsi prendere dalle convulsioni mentre gli altri cercavano di calmarla e di farle insorsare un po' di cognac perché evidentemente è infreddolita. Tommaso si slegava la corda dai fianchi sbragato sul fango tutto lasciato ma gobbo con la fronte bassa perché non si voleva far vedere in faccia com'era ridotto senza un filo di fiato per bestemmiare. Ecco, sottolineiamo questa ultima espressione di questo brano. Praticamente questa impresa qua concia davvero male Tommaso. È evidente che questo brano è la dimostrazione di quello che pensa Pasolini di questi ragazzi. Questi ragazzi sono dei ladri sono dei delinquenti sono appunto degli accattoni che vivono alla giornata eccetera però sono delle persone che vivono con una grande umanità e Tommaso l'ha dimostrato in questo frangente salvando questa donna. Ecco, adesso vado come l'ultimissima parte del mio contributo a sintetizzare brevemente il riassunto di questo romanzo. Pertanto consiglio a chi vuole leggere questo romanzo di fermarsi qua e fino adesso è stato un invito alla lettura. mentre possono continuare quelli che già lo conoscono e vogliono confrontarsi con le mie riflessioni. In sostanza questo romanzo parla di Tommaso che è in una situazione abbiamo visto molto molto precaria. A un certo punto però si innamora di una donna si innamora di Irene si presenta allora un'occasione di cambiamento che egli però non può cogliere perché viene arrestato per aver ferito gravemente un giovane e quindi questa speranza di cambiamento si perde. Uscito dalla prigione gli si presenta un'altra occasione di riscatto perché ai genitori è stato assegnato un alloggio ma Tommaso si ammala di tubercolosi. Ecco anche sfortunato ovviamente questo ragazzo non riesce a cogliere tutte le situazioni che la vita gli offre ed è invece segnato da grande sfortuna dicevamo e anche da incapacità di affrontare la realtà abbiamo detto che è caratterizzato proprio da una debolezza una fiacchezza che emerge poi chiaramente verso la fine del romanzo quando lui si ammala di tubercolosi. in ospedale Tommaso riflette sulla storia e sulla politica egli che in un primo tempo si era sentito fascista per l'amicizia contratta con alcuni ladri missini poi democristiano in seguito all'assegnazione della casa e allora al potere c'era la DC ed era stata proprio la DC che aveva assegnato l'alloggio a lui e la sua famiglia durante l'adegenza invece si avvicina al PC e comunisti e partecipa attivamente a scioperi e manifestazioni il romanzo termina con un Tommaso che fa progetti per una vita matrimoniale lavora perfino si iscrive al partito comunista con un grande sogno di rivalsa di riscatto finalmente poi avviene con l'episodio che noi abbiamo letto ecco infatti abbiamo ricordate anticipato che questo episodio avviene verso la fine del romanzo lui era convalescente lui era ammalato di tubercolosi avrebbe dovuto riguardarsi invece nel corso di questa situazione di questa alluvione per salvare quella donna praticamente si riammala in un modo gravissimo tanto da morire ecco la morte eroica di cui vi ho parlato all'inizio di questa recensione infatti Tommaso non riesce a vincere la tubercolosi trascorre gli ultimi giorni di vita sul lettino di ospedale per poi morire nel letto di casa sua termina così quindi in un modo un po' tragico ma nello stesso tempo anche eroico perché è vero che Tommaso è debole ma Tommaso non è l'inetto borghese dei romanzi di Svevo al contrario è un giovane di borgata effettivamente molto debole apparentemente inetto anche lui alla vita ma in realtà che nasconde come tutti quanti quei giovani di borgata che Pasolini esaltava nasconde una profonda umanità quell'umanità che la gente sta perdendo a causa del consumismo a causa del benessere a causa dell'omologazione tutte cose che diventeranno i bersagli degli strali di Pierpaolo Pasolini negli anni seguenti